Saluto con deferenza su Eminenza il Cardinale Arcivescovo, le autorità, i fedeli e tutti i cittadini presenti in Basilica. Questa sera comunità civile e comunità ecclesiale si danno appuntamento nel ricordo del patrono Sant'Ambrogio per consolidare il loro legame con quella lunga storia di fede operosa che ha accompagnato la vita dei suoi abitanti, bisognosi più che mai in questi tempi di appassionarsi al bene comune per la costruzione di una città solidale. Tre considerazioni richiamano la nostra attenzione in questo ritorno della festa di Sant'Ambrogio. Si avvia al termine il 2012, un anno il 2012 segnato da tanti motivi di sfiducia, di preoccupazione, sentimenti che amplificati dai media appaiono a molti insormontabili. E il pensiero va a coloro che anche nella nostra città vivono con incertezza la propria situazione lavorativa, in particolare ai tanti giovani e meno giovani che si trovano senza lavoro o nella impossibilità di costituire una nuova famiglia e di mantenerla. Eminenza, sono tante le famiglie in difficoltà. La famiglia che è il tessuto connettivo della città e della società, di questi tempi rischia di diventare il luogo nel quale si condividono solo problemi, preoccupazioni e non più speranze. Per questo desideriamo esprimerle il nostro più sentito ringraziamento per aver dato nuovo impulso al Fondo Famiglia e Lavoro, voluto dal Cardinale Dionigi Tettamanzi. Questo fondo ha raccolto in tre anni quasi 14 milioni di euro, erogati sotto forma di contributi monitorati a circa 7.000 famiglie del nostro territorio lombardo. La Chiesa di Milano sente particolarmente vere le parole di Papa Benedetto che più volte ha richiamato quanto l'economia abbia bisogno di riscoprire come sue caratteristiche costitutive la solidarietà e la gratuità. Vorrei poi ricordare la straordinaria esperienza vissuta dalla Diocesi Ambrosiana in occasione del settimo incontro mondiale delle famiglie. Penso al forte segno di speranza espresso dall'impegno di migliaia di volontari. Penso alle famiglie che hanno accolto con simpatia e gratuità altre famiglie provenienti da tutto il mondo. I giorni indimenticabili della visita del Papa hanno portato il mondo a Milano, una città la nostra ogni giorno sempre più internazionale e multireligiosa. In essa sono presenti le diverse confessioni cristiane, molte delle quali qui rappresentate, che saluto. La comunità ebraica ha antichissime radici, i fedeli islamici sono numerosi e tante comunità etniche sono ormai milanesi a tutti gli effetti. E infine nel 2013 celebreremo i 1700 anni dalla promulgazione dell'editto di Milano. Questo anniversario, cui questa sera diamo ufficialmente inizio, sarà occasione e propizia per sottolineare con forza e convinzione la necessità del dialogo e del rispetto della libertà di tutti. Dialogo e rispetto sono queste le premesse indispensabili per ricercare un terreno comune di incontro su grandi temi che impegnano la società e la Chiesa, che insieme guardano all'ormai prossimo evento di Expo 2015. Eminenza la ringraziamo per il suo Magistero, per la sua guida e ci disponiamo all'ascolto.